Qual è il problema di sua moglie? Il problema è che ha preso una ischemia celebrale all'ospedale Moscato di Aversa mentre era ricoverata, a seguito dell'ischemia la paralisi da un lato, il lato sinistro via Filippo Saporito, secondo l'otto, Urra Casas, palazzina 4, interno 5, terzo piano La moglie è una serie a rodelle? 24 ore su 24 L'Inps le ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento, quanto è l'importo? 500 euro E lei che lavoro faceva? Io non piglio niente, nemmeno un centesimo in Italia Perché? Niente, perché piglio 300 euro della Svizzera e basta Ha lavorato in Svizzera? 14 anni La sua vendita sono 300 euro 319 euro adesso Sua moglie invece? Mia moglie faceva la sarta di moda e 14 anni è stata con me in Svizzera, lavorava nella sartoria di moda dopo me ne sono venuto in Italia e gli ho messo un po' di contributi E quindi? Io e adesso piglio 719-720 euro al mese più 5 dell'accompagnamento prende 1200 euro più di 300 euro che prende lei Esatto Siamo a 1500 Eh, saranno 1500 L'abadante quanto riguarda? L'abadante costa 800 euro Aspetta, 800 solo di mensile che poi c'è mangiare e dormire più a quasi 1200-1300 euro Quindi in effetti il totale delle vostre pensioni se ne va per l'abadante Eh, se ne va per l'abadante e per l'acqua E quindi poi praticamente alla fine facendo i conti con 300 euro al mese Esatto Perché la casa Come faccio a vivere io? Ma la casa non l'ha pagata Come? Pago, vabbè di casa pago poco all'istituto delle case popolari di Aversa E quanto? Sui 50 euro Quindi alla fine andando a cernere vi rimangono circa 200 euro al mese per mangiare Esatto Quindi a questo punto c'è bisogno di un aiuto Che vorreste dal comune Ma a me volesse solo l'aiuto per farla salire e scendere Io voglio qualcosina che posso mandarle a fare la fisioterapia Ma fino adesso ti dico la sincera verità Io l'abadante gliela facevo pure scendere Ma io tengo tanti anni, i figli ne tengo, non tengo nessuno Vorreste una persona che fa aiuto a scendere pur quando dovete uscire con la signora Per farla almeno a prendere un po' d'aria Dal comune avete avuto? Il polmanino un mese quando io ero ancora più giovane che potevo Ciappare la braccia e poterla scendere Perché loro aspettavano tutto, mica possono venire sopra a prendere Ma adesso non ce la faccio più Quindi adesso voi non riuscendo più a portare giù Avete perso pure l'aiuto del trasporto Esatto E quindi per andare al senno di fisioterapia Esatto Ma a domicilio? Perché non potreste fare la fisioterapia a domicilio? A domicilio o mi mandano un fisioterapista di professione Ma quello che mi hanno mandato fino adesso perché me l'hanno mandato Ma mi hanno mandato a pasta e pasta Faceva 10 minuti, 15 minuti, faceva ta 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 Arriva e c'è il gas Poi veniva Perché lei lo sa che ti danno 60 terapie, 50 terapie No? Finito il ciclo Mi faceva Abbiamo finito, deve ricominciare un'altra volta da capo E' un anno e mezzo che non ci ha fatto vedere più Quello che desiderate è avere un mondo a scala Esatto La sedia a rodella si mette sopra sta scaletta elettrica e scende Salire e scendere All'asole Esatto Niente altro Niente, io non chiedo niente altro Voglio solo qui Serve solo per farla salire e scendere Quello che mi fanno sono contentissimo